Una firma qui e una qui. Signorina, non ho tutto il giorno. Devo ritirare una raccomandata. Ho trovato la pisa in un fio. Siamo passati e lei non era a casa. Davvero? Sì, davvero. Un attimo, eh. Speriamo. Senta, signora, mi spiace, io non posso aiutarla, veramente. Questo è il pacco. Chi lo manda? La Green Consulting. Consulting? È sicura? Ci lavoro lì? Questo è quello che ci scrive. Va bene, va bene, va bene. Ma è mezzo aperto. Non è che ci avete messo le mani, eh? Io non so neanche come ne può venire in me. Ho parlato con i pompieri. Grazie. Non capisco perché non ci fanno uscire. Perché ci stanno mettendo tanto.